Foto, condivisioni e tante lamentele. Sui gruppi social stanno impazzando in questi giorni diversi immagini che riguardano lo stato in cui versa la pista ciclopedonale che collega Padiglione, frazione di Tavuglia, a Via Re dei Gatti di Montecchio, frazione di Vallefoglia. A causa delle grosse piogge dei giorni scorsi, lo strato di asfalto presente lungo il camminamento ha ceduto in più punti, generando buche e dune pericolose per tutti i frequentatori della pista. Facciamo però prima un passo indietro. Da circa cinque mesi questo tratto di strada ciclopedonale è soggetto a lavori di rifacimento e ampliamento delle fognature da parte di Marche Multiservizi, che ha appaltato i lavori affidandoli ad una ditta. Una volta completati gli scavi e la sistemazione delle tubature, il pezzo di strada interessato è stato ricoperto da una colata di bitume provvisoria, in attesa di un assestamento del terreno. Asfalto che poteva essere risparmiato se non fosse che la stagione estiva e soprattutto quel tratto di pista ciclopedonale, vede ogni giorno tanti frequentatori e proprio per questo è stato deciso di agire diversamente a favore dei cittadini. Avremmo potuto decidere insieme a Marche Multiservizi di chiudere il tratto, ma siccome siamo durante dei periodi estivi, stiamo vivendo appunto dei mesi belli di sole, abbiamo ritenuto opportuno lasciare comunque spazio e possibilità alle persone di passare lungo la pista ciclabile nonostante i lavori, chiaramente facendo attenzione, perché altrimenti sarebbe stato chiuso il tratto fino a fine lavori. Il comune di Tavuglia si è allacciato ai lavori effettuati da Marche Multiservizi per portare a termine due interventi che da tempo aveva in programma. Per noi questi lavori sono importanti anche per altri motivi, uno perché chiaramente sarà poi Marche Multiservizi che si farà carico di rifare il manto stradale, che abbiamo tutti gli occhi, lo sappiamo, era abbastanza usurato e finito, quindi saremmo comunque dovuti intervenire noi come comune, perciò ecco questo è un punto a nostro favore. E la seconda cosa, la più importante, è che grazie a questi lavori di fognatura di Marche Multiservizi noi abbiamo potuto allacciare un altro lavoro importante che era già, mi sembra, stanziato dal 2020, quindi è già un progetto fatto, quello di porre l'illuminazione pubblica lungo questa strada. È un lavoro che viene richiesto ormai da, non dico secoli, ma da tanti anni, da tante persone, perché effettivamente questo tratto di strada di notte è pericoloso e buio. Chi allora aveva fatto il progetto di questa pista ciclabile non ha tenuto conto del fatto che poteva necessitare di un impianto di illuminazione, per cui non sono stati fatti delle giuste tubazioni sotto. Quindi, cosa abbiamo deciso di fare? Il nostro progetto inizialmente era quello di porre dei punti di illuminazione utilizzando una via aerea, quindi mettendo quei famosi fili a penzoloni che chiaramente non sono belli, ma sicuramente facevano risparmiare. Per il prossimo anno, sicuramente per la stagione estiva ci sarà. Tempistiche che sicuramente si sono allungate rispetto a quelle previste inizialmente, proprio perché in questi giorni, a causa delle grosse bombe d'acqua, il terreno, che ancora non si era assestato, ha ceduto creando grosse voragini e crepe per circa 500 metri della pista ciclopedonale. I nostri tecnici, insieme ai tecnici di Marche Multiservizi e la ditta, sono intervenuti, hanno valutato quelli che sono i danni. Chiaramente già da domattina cominceranno a risistemare il tratto. Ora credo che i tecnici facciano i tecnici e non gli amministratori, quindi non compete a me dire come sarà l'intervento e cosa verrà fatto. L'importante è che il lavoro venga fatto bene, come deve essere fatto, e chiaramente che non sia di pericolo per le persone. Il vice sindaco di Tavuglia, dopo aver fatto chiarezza sulle condizioni del manto stradale, ha voluto anche precisare le difficoltà che quotidianamente si trova ad affrontare. È veramente fastidioso, antipatico e a volte anche a limite passibile di denuncia. Quando leggi cattiverie, inutili, soprattutto persone che non sanno come realmente funzionano le cose, non sanno quali sono le competenze. Per esempio leggo uno da contro il sindaco di Vallefoglia, piuttosto che il sindaco di Tavuglia, piuttosto che Marche Multiservizi, solo per la voglia di dare le colpi a qualcuno. Cioè qui ognuno di noi ha un ruolo. Quindi quando ci sono queste pericolosità, invece di fare la foto e pubblicarla sui vari social che girano adesso come se fossero la manna dal cielo, l'unica cosa che funziona, chiamate gli enti competenti, i carabinieri, i vigili, il comune, anche noi rispondiamo sempre, in comune ci sono vari uffici che rispondono secondo le loro competenze.